e quindi vedremo insomma la definizione, quali sono i giochi, regole, principi e un po' di proposte pratiche e vai pure avanti che così presentiamo il tuo percorso. Bene, intanto Alberto ci tengo a ringraziare te, a ringraziare Luca della partecipazione e della possibilità e dell'opportunità che ci state dando. Ovviamente un saluto va da parte del nostro direttore Francesco Palmieri da parte del Sassuolo Calcio, del settore giovanile e ho avuto la possibilità di seguire anche l'intervento dei mister e dei referenti precedenti, quindi è sicuramente sempre una bellissima occasione di confronto e di insegnamento costante che noi, per chi è appassionato, ha questa grande opportunità. Quindi grazie intanto. Bene, grazie. Infatti questo anno, poi è stato questo anno e mezzo, diciamo è stato un po' particolare e abbiamo scoperto questo strumento e abbiamo anche scoperto forse ancora di più il gusto della condivisione, di trasmetterci le esperienze, quindi direi veramente molto molto bene. Vai pure. Intanto sicuramente faccio una premessa dicendo che l'obiettivo è quello di esporre un po' a quelle che sono i metodi e un po' il modo di lavorare che in questi anni ho avuto modo di applicare, ma non andando nel dettaglio di tutte le cose, ma cercando di soffermarci un po' su quelle che sono le attività situazionali con il mondo dell'attività di base, visto che ho avuto la possibilità di seguire un po' tutte le fasce d'età all'interno del mondo, del nostro settore giovanile del sassuolo calcio e quindi questo mi ha permesso di conoscere e poter imparare anche da tantissime figure importanti del nostro settore giovanile e quindi l'idea è un po' quello di fare un confronto e metterci a disposizione. Soprattutto per queste fasce molto importanti, fasce d'età diciamo in cui la crescita è costante, i cambiamenti sono costanti e quindi è importante curare e avere attenzione su di loro davvero a 360 gradi. Io dico sempre che noi siamo prima di tutto istruttori, siamo prima di tutto educatori, siamo prima di tutto animatori anche, soprattutto con le fasce dei piccoli, come diceva anche il direttore Rusca prima, è importante trasmettere davvero la passione, il piacere, la voglia, del divertimento per questo sport per permettere poi a questi bambini, una volta che entrano nel mondo dell'attività agonistica, di vivere il calcio con una passione forte ed entusiasmante. E vado avanti, allora. Sì, no, 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 aspetta un attimo, ti prego. Vorrei, sì, comunque il percorso lo guardiamo un attimo, no, perché comunque alla guida della formazione Under 13, nove anni nel Sassuolo, ti chiedo se allenare nell'attività di base diventa anche una vocazione, no, perché è una particolarità a farlo, no? Sì, è una vocazione, io credo sia una vocazione, nel senso che è l'amore per questo sport, chiaramente la passione per questo sport, ma poi anche quello che puoi dare ai bambini. Ecco, quindi io ho la fortuna di poter lavorare da tanto con loro, anche, diciamo, con quello che è la mia attività extracalcistica e quindi sicuramente nasce da questo, ecco, è una vocazione. Bene, bene, grazie e adesso ti lascio la parola. Grazie, grazie mille. Voglio partire, diciamo, da, faccio un passo in avanti dando una definizione, secondo me, importante di quello che è innanzitutto una situazione di gioco, quindi una fase di gioco in cui sono presenti le variabili che sono avversario, palla e compagno. Poi ho preso una definizione importante che il settore giovanile scolastico della federazione dà e che io ritengo, cioè, la sento molto mia, no, di gioco. Che cos'è un gioco? Un gioco è un'attività ludica e competitiva che permette al giocatore di leggere situazioni di gioco, selezionare scelte ed individuare risposte motorie ricercando l'efficacia prestativa. Quindi sicuramente l'obiettivo con queste fasce d'età è sviluppare giochi, fare giochi, fare in modo che ci siano attività e giochi dove loro possano esprimersi e mostrare quelle che sono le loro capacità e all'interno di questi giochi puoi poter conoscere e imparare. Ho lasciato una frase, no, quella del fatto che sarà essenziale trasmettere tante e varie situazioni di gioco in quanto il giovane calciatore, il bimbo, tende a riprodurre e progettare mentalmente azioni da lui riconosciute. E su questo noi utilizziamo sempre un termine, quello dello zaino. Noi diciamo sempre mettiamo nello zaino più esperienze possibili, più situazioni possibili, più cose possibili che ci possono far crescere. Perché poi quando un giorno dovremo andare a prendere dallo zaino tutta una risposta e delle soluzioni, se il nostro zaino è ricco e pieno di possibili platee, di cose diciamo messe in campo, ci aiuterà e ci permetterà poi di trovare le giuste soluzioni a quelli che sono i problemi che avvengono durante il gioco. Ecco, questo per me è molto importante, riuscire a trasmettere il fatto che dobbiamo costantemente dare e trasmettere tantissimi tipi di variabili e attività in maniera tale da arricchire il bagaglio. E soprattutto con l'attività di base è molto importante non soffermarsi sul ruolo, su cose diciamo definite e molto standardizzate, ma dare davvero un bagaglio completo. Anche da un certo punto di vista così dare sempre segnali diversi o input diversi che possono dare anche instabilità, diciamo, non troppa stabilità, ma questa instabilità è qualcosa che permette poi di crescere, di avere un bagaglio e di poterlo utilizzare nel momento in cui poi si andrà a fare il calcio che conta. Con quale ruolo possono avere, quale ruolo hanno i giochi situazionali o i giochi di situazioni? Sono sicuramente un ruolo in cui possiamo scoprire ed insegnare quelli che sono i principi di gioco attraverso il quale vogliamo trasmettere il gioco e contenitori modulabili in relazione all'età, alla capacità dei nostri piccoli atleti e ai principi e gli obiettivi che vogliamo trasmettere. Ci soffermeremo un po' su quelle che sono le caratteristiche, quelli che possono essere i parametri e le regole dei giochi di situazioni, almeno per quanto mi riguarda, e gli obiettivi e i principi da trasmettere. Andiamo a vedere un po' quelle che possono essere le caratteristiche. Sicuramente per quanto mi riguarda devono avere regole semplici, soprattutto nel trasmettere, nell'iniziare un processo di gioco. I giochi devono essere semplici, veloci e abbastanza immediati per permettere di iniziare a giocare, perché poi è attraverso il gioco che noi impariamo. Quindi anche le nostre spiegazioni devono essere brevi, efficaci, dirette. Saranno loro che attraverso il gioco impareranno e capiranno come è sviluppato quel gioco e come deve essere portato avanti. Ad alto tempo di impegno motorio, mi piace utilizzare questo termine che utilizza anche la nostra federazione, nel senso che fondamentalmente noi abbiamo un'ora e mezzo, un'ora e un quarto, due ore di attività con i nostri bimbi. Consideriamo che i nostri bimbi sono a scuola, non vivono più l'esperienza della strada come una volta e quindi dobbiamo essere bravi a dare tanto tempo a loro nell'impegno motorio. Pochi tempi morti, in continuità, in intensità. E questo sicuramente li aiuta ad avere tante, a creare tante esperienze. Quindi alcuni esempi possono essere il fatto di evitare situazioni dove ci sono delle eliminazioni, oppure applicare strategie per far riprendere rapidamente il gioco. E quindi tutte queste cose sono importanti. Ovviamente tutto questo poi noi lo costruiamo con il tempo e deve essere importante la nostra autoanalisi al termine anche dei giochi, delle attività e della nostra seduta. Sono stato in grado di, ho dato la possibilità a tutti i miei bimbi di muoversi abbastanza, hanno ottenuto un tempo di impegno motorio alto e questo, ponendoci queste domande ed essendo sempre pronti a migliorare, lavoriamo sempre per ottenere di più. Devono avere ovviamente progressioni propedeutiche, quindi soprattutto con le categorie dei piccoli impariamo a fare prima di tutto giochi semplici che devono riuscire. Io lo dico perché, visto che ci riteniamo anche educatori e motivatori, il calcio per i bimbi piccoli, il bello di vedere in campo un bambino piccolo è quello di vederlo segnare, esultare davanti a un gol. E quindi inizialmente è molto importante il fatto che riesca ad ottenere dei risultati e possa andare avanti per evolversi. Il gioco poi prenderà evoluzione da solo e mano a mano crescerà di complessità, quindi una crescita della complessità per step. È chiaro che tutto questo poi sarà proporzionato a quello che sono il livello, le capacità dei singoli piccoli nostri atleti. E come dicevo prima, quindi il gioco si impara facendo ed è l'unico modo per impararlo, quindi lasciamoli fare, lasciamoli sperimentare, lasciamoli giocare. Devono essere per me contenitori riconoscibili, no? Cosa intendo dire? Molto semplicemente, devono riuscire a creare qualcosa all'interno del quale velocemente riusciamo a ripescare quelle che sono le attività che dobbiamo andare a svolgere. Poi all'interno di quel contenitore, volta per volta ci saranno variabili, modifiche, cambiamenti. Il gioco prenderà una forma diversa, prenderà delle modalità diverse, ma il contenitore è riconoscibile. Un'altra cosa che per me è importante sono anche i nomi dei giochi, soprattutto con i nostri piccoli, no? Un gioco di mantenimento, di possesso, può avere anche un nome diverso, no? Provo ad fare degli esempi, ma giusto per dare un'idea, no? I dominatori del campo, oppure la battaglia dei gol, oppure a tutto gol. Ecco, tutte cose che però trasmettono entusiasmo e danno energia e tutto questo sarà un'energia che loro poi metteranno in campo e metteranno all'interno delle iniziative, delle attività che proponiamo in maniera moltiplicata. E anche il nostro ruolo, quello di essere interattivi con loro, essere molto attivi, anche giocare in alcuni momenti, no? Nel senso anche con le parole. Io sono spesso con i nostri piccoli, no? Ci sono anche i momenti della telecronaca, mentre facciamo un momento di attività o un gioco specifico. Ora, chiaramente questo lo facciamo e lo andiamo ad analizzare con le nostre fasce dei più piccoli, però questa è una cosa molto importante, perché crea un ambiente disteso, sereno, energico, motivazionale e dà aiuto, tutto questo aiuta la loro partecipazione. Ovviamente spazi e tempi che vengono modulati in relazione alle loro capacità e all'età, quindi gli spazi e i tempi sono sempre un qualcosa che moduliamo anche in base a quelli che sono gli obiettivi che ci poniamo e che vogliamo raggiungere. Quali sono le regole e i parametri che cerco di individuare? Quindi innanzitutto cerco di andare a definire gli obiettivi e i principi da perseguire nel gioco, no? Ogni società e per ogni annata ci sono obiettivi e principi che ogni società vuole perseguire, quindi queste sono le scelte dirette specifiche. E poi ovviamente...